a 1 in direzione roma code tra badia e aglio e tra aglio e calenzano sesto fiorentino ancora verso roma rallentamenti per traffico intenso tra firenze sud incisa reggello sempre per traffico intenso rallentamenti in direzione bologna tra calenzano sesto fiorentino e il con la variante di valico in a 11 code a tratti per il traffico intenso tra pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione firenze spostandoci sulla fippi lì code a tratti tra ginestra fiorentina e firenze scandici in direzione firenze a firenze per lavori restringimento di carreggiata in via senese all'altezza dei civici 93 95 muoversi in toscana inf servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio grazie a tutti